grandi grandi mitici amici trofeo stupidanti platini stupidanti la rubrica di questa meravigliosa le opzioni c'è anche statistiche incredibile di questi giochi per avere platini easy easy allora chiaramente this year you have reincarnated la giraffa g ok first button per magnan e primo trofeo eccolo qua vediamo perché ci sono ogni 500 dovrebbe essere ecco giraffa mamma in the world ve li leggo è perché non so se non credo che si riescano a vedere nel video allora mille have after being born altro bel trofeozzo adesso ci vuole un po un po di foglie deve mangiarsi un po di foglie allora giraffa stand up pretty much all the time ragazzi mio english perfect perfect english ora vediamo un attimo eh dos milas giraffes don't need much sleep bronze trophy andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti all'interno del gioco incredibile 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 la giraffa non fanno neanche un'animazione ragazzi è un'immagine e un po di trofei è una ditta incredibile questa qua di dare un premio oh giraffe are super peaceful animal questo è già argento allora 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 giraffa are unica e unica e questo è argentino è andiamo quanti ce ne sono perché variano e variano in base al gioco queste si può chiamare gioco giraffes tongeus are massive tongeus mai sentito nominare questa parola e vediamo a quattro e cinque adesso 10 mila they can run as fast 35 miglia an hour over short e c'è la città tra l'altro troppo lunghi troppo lunghi questi titoli fanno più lunghi i titoli dei trofei che il gioco a giraffe need to it's too short to reach the ground eh ragazzi poi per la traduzione è un altro discorso allora 3.500 vai giro oro giraffe only need to drink once ever few day ah può few day può anche non bere per giorni eh penso che siamo arrivati giraffe have purple tongeus west non lo sapremo mai anche perché è finito lo cancello subito finisco con il trofeo stupidenti per fare un bel video giraffe are already extinct in the last seven countries in africa oh poverine si stanno estinguendo o si sono estinte in parecchi paesi country africani both male and female giraffe have horns are ready to burn ragazzi qui si sta parlando inglese a livello pro eh nei migliori istituti di howard e oxford parlano così giraffes have are covered horns called ossicones mamma mia ragazzi marco trans international marco trans international allora vediamo un attimo 8.000 giraffe have some the biggest fear of the animal king oro eh stiamo arrivando quasi a platino amici eh amici amiche di youtube oh they are jack gods of the animal kingdom certe cose sono veramente strane eh parole mai visto e mai sentite in vita mia uh a giraffe is pregnant for 15 a 15 month 15 mesi rimane incinta la giraffa beh sono grosse ci sta 4 e 5 giraffe have birth while standing up e ragazzi stiamo arrivando al platino the giraffe g che meraviglia resume no ecco andiamo a cancellare immediatamente questo gioco incredibile mi raccomando di seguire marco drums games channel su youtube questi video esilaranti di platini assurdi platini stupidanti li ho chiamati platini stupidi perché sono solo giochi pagati 1 euro e 46 e 1 euro e 49 o 2 euro solo per avere un platino ok ragazzi allora mi raccomando anche di seguirmi su Twitch Facebook Instagram TikTok Discord e tutti i social ok ragazzi ma la cosa importante è qui su youtube un bel mi piace commentate e iscrivetevi al canale e anche una bella iscrizione e venite in chat su Twitch che ci facciamo delle belle delle belle serate insieme a ridere e scherzare e a parlare in chat ciao ragazzi alla prossima trofeo stupidanti btc ciao 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 Grazie a tutti.